Ebbene sì, sto viaggiando verso Rovigo, voglio scoprire come cavolo è fatta per la mia serie I borghi più irreprensibili d'Italia. Lo sponsor di questo viaggio è Satispay, così pago lo sprizza senza le monetine. Mi trovo a Rovigo e quella alle mie spalle l'avrete sicuramente riconosciuta e la famosissima no no non si vede niente, rifacciamola dopo. Come potete vedere dai passecini lasciati in piazza mi trovo a Rovigo, il capoluogo del Veneto di cui ahimè ci si dimentica sempre. Forse perché avvolto tra le nebbie del mistero o forse perché avvolto tra le nebbie e basta. Il mio compito sarà mostrarvi i suoi edifici tipici, narrarvi la sua storia, in modo tale che quando sentirete parlare di Rovigo direte ah già Rovigo, ho presente, proprio una bellissima città. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a qualcosa che non avete mai visto prima. Sto per mostrarvi cosa c'è a Rovigo. Tutto iniziò nella Mesopotamia del Veneto, il Polesine, la terra tra i fiumi, Adige e Po. Dato che il nome terra tra due fiumi era già stato preso, il nome Polesine significa terra paludosa. È in questa liquida terra che ebbe origine lei, la Babilonia del Polesine, la città che tutti oggi conoscono con il nome di Adria, non lontana da Rovigo. Adria, dove tale il nome del mare Adriatico, rimase figa fino al 589 d.C., quando un'enorme inondazione cambiò il corso di tutti i fiumi del Veneto e trasformò il Polesine in una guarda i casi della vita palude. I Longobardi avrebbero potuto sistemare tutto, ma siccome avevano paura dei nemici di Ravenna, preferirono lasciare una perenne fanghiglia. Dopo tre secoli di palude, con ritirarsi dai fiumi, Rovigo comincia a sorgere e viene prontamente conquistata dagli estensi per i successivi tre secoli. Precisamente il suo primo conte fu uno di nome Azzo VI d'Estè. Azzo? Venne costruita la cinta muraria, di cui rimane poco o niente. Non so se questo muro ne faccia parte. Irreprensibili sono le due torri di Rovigo, Torre Donà e Torre Grimani. La Torre Donà è una delle torri medievali più alte del nord Italia, mentre Torre Grimani è anche detta Torre Mozza, perché, come potete vedere, è fatta di mozzarella. A Rovigo dicono che è qui che Tolkien prese ispirazione per Il Signore degli Anelli, le due torri. Facevano parte di un castello, alcuni dicono fatto dei vescovi, altri dagli estensi, secondo me è stato fatto dei muratori. C'è una terza torre, Torre Pighin, era vuota ma un certo punto cominciarono a costruirci delle case all'interno. Si racconta che nel medioevo, all'ombra di questa torre, si vendesse una focaccina dolce per bambini, chiamata Kinder Pighin. Dopo qualche altra inondazione e la guerra del sale, gli estensi dovettero cedere Rovigo alla Serenissima, che non perdette tempo a piantargli il suo iconico Leone di San Marco. Rovigo arrivò con un tempismo incredibile, durante la guerra di Cambrai, dove tutti tentarono di distruggere la Serenissima perché troppo figa, quindi Venezia non aveva tempo di pensare a Rovigo, tradizione che in Veneto perdura ancora oggi. Risalgono a questo periodo le due porte rimaste in piedi, Porta Sant'Agostino e Porta San Bortolo. Finita la guerra, Venezia decise di prestare un po' di attenzione a Rovigo e accettò di costruire una grande chiesa per ospitare un'immagine sacra di Madonna con Bambino, che stava riscuotendo un enorme successo in quel momento. Venezia quindi non badò a spese, anche perché i soldi li avevano raccolti i rodigini, andò subito dal suo architetto migliore, il palladio, e gli chiese se conoscesse qualcuno di un po' meno costoso per fare una chiesa a Rovigo. Così Zamberlan progettò la chiesa della Beata Vergine del Soccorso, meglio nota come il Tempio della Rotonda. Attenzione, non è questo il Tempio della Rotonda. Il suo nome è dovuto al fatto che, come potete vedere, la pianta è ottagonale e l'ottagono è la figura che più si avvicina al cerchio, la forma perfetta. Sapete quale altra figura si avvicina al cerchio? Il cerchio, ma il tempo non lo avevano ancora scoperto. Ed ecco come si presenta il Tempio all'interno. Venezia ha voluto rendere omaggio a Rovigo riempiendo le pareti con bellissimi podestà veneziani. Non c'è di che, Rovigo. I podestà sono circondati dalle loro virtù, come la prudenza, con uno specchio, e la prosperità. Per dire agli analfabeti come si chiamavano, venivano messe delle figure note, tipo qui c'è San Giovanni e dei Cavalli, perché il podestà si chiamava Giovanni Cavalli. Questo potrei dedurre che si chiami, ci sono le tre grazie lì, quindi Graziello Tromboni. La bella tipa qui è Rovigo, quella vecchia rimbambita è Ferrara, chi ha orecchie per intendere, intenda. Tra le statue ci sono dei piccoli dipinti che rappresentano i miracoli dell'icona della Madonna, perché pareva brutto non inserirli in una chiesa dedicata a lei. C'è anche l'affresco sul soffitto, in cui la Madonna scaccia via la peste, meno potente del covid. La Madonna con bambino è stata messa qui, ah, da quella parte scusate, qui, incastonata in un tripudio di sculture. Venezia ha portato pure delle reliquie nel tempio, anche qui non ha badato a spese. Abbiamo i celebri santi Benigni, giusto, pacifico e l'irreprensibile Mansueto. L'organo invece mi dicono che è preziosissimo. Rovigo stava diventando una città davvero carina, tanto che cominciò a girare la voce che il suo nome derivasse dal greco e significasse città delle rose, persino Ariosto ci cascò e gli dedicò un verso. In realtà Rovigo si chiamava Rodigo, probabilmente derivava da un nome tedesco, di un tedesco brutto, oppure significava zolla di terra, posto agricolo. Infatti una volta Rovigo era un paesetto di contadini, mentre ora ci sono addirittura tanti negozi che accettano di essere pagati con Satis Pay, siamo nel futuro. Gli abitanti di Rovigo si chiamano Rodigini e ci tengono a scriverlo ovunque, perché in Veneto ci ostiniamo a chiamarli Rovigotti, perché fa più ridere. Per mangiare tipico mi consigliano di andare all'Osteria ai Trani, dove trovo le mie amate Sardin Saur, tortini ai carciofi, spaghetti con salsa di sarde, tagliatella al ragù con spuma di parmigiano, qui c'è di mezzo Ferrara, cheesecake al pistacchio e la millefoglie che non so perché a Rovigo la trovo spesso. Come ormai sappiamo dopo Venezia arriva Napoleone, che distrugge un po' di cose, tipo l'antica chiesa di Santa Giustina, che ora è piazza Garibaldi, si vedono ancora i tratti per terra di dove era posizionata. Santa Giustina chiese ospitalità alla chiesa di San Francesco, che divise l'affitto con lei e crearono la chiesa di San Francesco e Giustina. Qui troviamo il teatro fatto dagli austriaci e il caffè Borsa, dove mangiare le nebbie, un dolcetto tipico di Rovigo, pieno di crema chantilly e nebbia. Si narra che la statua di Garibaldi fosse destinata a Roma, ma siccome lo scultore era contro la monarchia, scolpia il posto delle staffe e delle corone al contrario. Roma allora non la volle e se la prese l'intrepida Rovigo, che la mise proprio di fianco a Piazza Vittorio Emanuele II. Per entrarci si può passare sotto all'arco dei bocciati, tanto io non ho paura di essere bocciato, gli esami non finiscono mai, eccetto che per me. Non so perché Vittorio ha questo coso di Vimini dietro, forse perché è stanco di stare in piedi. Si nota subito il palazzo Rovella, perché è rosso estense, guardate quanto è rosso estense. Ci fanno un sacco di mostre interessanti, tipo adesso c'è quella di Kandinsky. Comincia coi dipinti impressionisti, che ormai piacciono a tutti a inizio novecento, per poi abbandonare il contesto e fare tante figure a caso, componendo le immagini come se fossero musica. Poi libera anche le figure per concentrarsi sui colori, i veri protagonisti. I colori vengono confinati sempre più in figure geometriche, così da rappresentare l'essenza delle cose, ed ecco a voi l'astrattismo. Kandinsky odiava essere definito astrattista, perché per lui quello che fa è una rappresentazione concreta delle cose, beh non lo ha ascoltato nessuno. Pausa sprizzetto in piazza e pausa pizzetta in un panificio rodigino che udite udite accetta Satispay, così posso sfruttare lo sponsor per pagare 60 centesimi senza monetine. Se anche voi volete Satispay con un regalino, usate il mio codice speciale NEBBIA. Tipica macchina di Rovigo. Dicono che a Rovigo si aggiri una personalità leggendaria, il cosiddetto Gatto Rossini. Io l'ho cercato ovunque, ho chiesto ai suoi coetanei, a chi mi segue su Instagram, tantissimi mi hanno scritto che di solito si trova in zona tribunale, ma sono passato dieci volte e non c'era. Dopo 16.000 passi sono giunto alla conclusione che il Gatto Rossini non sia altro che gli amici che si sono trovati lungo la strada. Questo è il Duomo, dato che sto facendo un documentario, è in manutenzione ma mi dicono che va bene così. Questa è Corso del Popolo, la via principale di Rovigo. Ci sono tutti i tipici cibi rodigini, gli arancini di Rovigo, gli arrosticini di Rovigo, le mini crepes olandesi di Rovigo. Una volta in Corso del Popolo passava la Digetto, poi il buon venito lo ha interrato. Qui c'è ancora la pescheria, che ora può solo pescare delle pietre, lo si può vedere anche in un dipinto nella rotonda. Sono rimaste un sacco di sculture dell'epoca fascista e avvincente cercarle tutte in giro per la città. Molte sono opera di Virgilio Milani. Non so se sia collegato col famoso discorso della bonifica delle paludi. Questa era una scuola balilla e questo era l'Inps, perfettamente conservato. Era quando non c'era il sistema contributivo. Come legge del contrapasso, a Rovigo studio e scrisse Giacomo Matteotti. A Frata di Polesine c'è la casa dove è nato. Ha una piazza e un monumento tutto suo, proprio sotto alle torri. Giacomo Matteotti e le due torri. Tradizione che ho appena inventato quando visiti la torre mozza è bere una birra del birrificio la torre mozza. È un birrificio rodigino con ingredienti del Polesine, ha vinto un sacco di premi e io da amante della birra artigianale confermo che è molto buona. Quindi ne ho bevuta un'altra e ho visitato il birrificio e me ne hanno date altre. I panini del pub poi sono fenomenali, questo ha i fagioli in potacin sempre tipici del Polesine. Il rugby è lo sport della città. Il Rovigo Delta Rugby è la terza squadra più forte d'Italia, dopo il treviso. Il blu e il rosso sono i loro colori, i colori del cuore, quelli di Rovigo, come potete vedere dallo stema tradizionale c'è il verde, ok non sono i colori di Rovigo. Quando la squadra si è formata era così povera che il Bologna le dette le sue maglie di seconda mano ed ecco la storia dei colori di Rovigo. Abbasso il razzismo verso il Polesine. A Rovigo le provano tutte per venderti una casa. Questo è il manicomio che, dato che sto facendo un documentario e dopo la legge Basaglia, è chiuso in manutenzione. Ho chiesto di visitarlo ma mi è stato proibito. Perché? Cosa volevano nascondermi quei boomer? Sarà tanto peggio della sede dell'Inps? Grazie alle foto concesse da Giacomo Doni posso mostrarvi qualche dettaglio. Si trova vicino alla stazione ed è come una piccola cittadella. È stato fondato nel 1929 con lo scopo di curare tutti coloro che decidevano di venire a vivere a Rovigo. Poi si accorsero che non c'era nulla di strano nell'apprezzare Rovigo. Anzi, confermo che una volta scoperta si tratta davvero di una bella città. Lo chiusero nel 1995 e ora ci fanno qualche evento e corsa ad ostacoli. Robe d'amati. E questa è Rovigo. Ora sapete com'è fatta. Con le sue torri medievali, il Tempio della Rotonda, il manicomio abbandonato dove assolutamente non potevamo andare, tutti i posti affascinanti e che la consacrano di diritto tra i capoluoghi del Veneto. Per qualche motivo da noi si dice a Rovigo non mi intrigo. Beh, spero che ora che ve l'ho mostrata senza neanche un filino di nebbia la possiate trovare un po' più intrigante.